Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di Tivusiti. In apertura sempre l'emergenza sanitaria. Ferma al palo la campagna vaccinale per i marittimi. Ai nostri microfoni la protesta dell'Associazione Marittimi per il futuro. Nuove regole per gli eventi, matrimoni e convegni potranno svolgersi in sicurezza e naturalmente muniti di mascherine. Poi la cronaca con la vasta operazione della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 140.000 dispositivi contraffatti. In chiusura lo sport con la Turris sconfitta a Cava. I corallini salutano il sogno playoff. Questo è naturalmente altro. Guardiamo i servizi. Con la riapertura in quasi tutta Italia restano dubbi per quanto riguarda il settore eventi. Le maggiori libertà concesse al governo Draghi possono consentire matrimoni, comunioni e altre funzioni. Il decreto infatti prevede le regole e i protocolli da osservare per le attività che ritorneranno ad aprire. Nel documento non si parla nello specifico dei matrimoni ed eventi. Pare quindi che tali attività non siano sospese. Le regioni inoltre hanno approvato una serie di linee guida per convegni e grandi eventi, come appunto i matrimoni. Le nuove regole comprendono una serie di misure già utilizzate lo scorso anno. Predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento. Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti. Se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita. Disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso e di almeno un metro di separazione negli ambienti all'aperto, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione. Laddove è possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni, sempre nel rispetto al distanziamento di almeno un metro. Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo. Gli ospiti dovranno tutti indossare la mascherina negli ambienti interni quando non sono seduti al tavolo e negli ambienti esterni, qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno un metro. Il personale di servizio, invece, a contatto con gli ospiti, deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani. È possibile organizzare una modalità buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso per ospite personale l'obbligo del mantenimento e la distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitano la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali. Dovranno essere altresi valutate idonee misure come segnaletica a terra e barriere per garantire il distanziamento interpersonale. Per eventuali esibizioni musicali da parte dei professionisti devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale quindi sono ancora vietati i balli. È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. Nei guardaroba, indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti portaabiti. Vincenzo Accardo, presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco. Un problema serio affligge la vostra categoria impossibilitata in questo momento a vaccinarsi attraverso la prenotazione sulla piattaforma regionale. Cosa sta succedendo? Cosa succede? Che nel marittimo cosiddetto fantasma andiamo sulla piattaforma, io parlo dei marittimi del turno particolare CRL, va sulla piattaforma e cosa succede? Una volta che fai tutta la procedura ti esce scritto tu non sei nessuno, sei un fantasma perché il marittimo non ha diritto a scriversi sulla piattaforma perché facciamo parte del Stasna, della ex Cassa Marittime dove il direttore Sarzano hanno fatto una lettera al ministro Speranza. Ho visto anche che De Luca ha fatto una campagna elettorale anche adesso sul Re 1 sta vaccinando Procida, Ischi e Capo. Ma scusate, ma Procida, Ischi e Capo, questi lavoratori turisti ma come vanno? Con i canotti? Avete qualcosa di particolare o vanno sempre con i traghetti? È chiaro che se il lavoratore, se il marittimo non si vaccina non può lavorare. Non può lavorare ma lavoro perché deve lavorare per forza e portare anche la famiglia avanti perché poi ci sono delle regole. ma abbiamo tutti, diciamo, mascherine, guanti ma non c'entra niente perché sappiamo pure che qua sono morti qualcuno, i cassieri dei supermercati, l'autisti, è morta anche qualche marittimo poco tempo fa. Ora ci sono marittimi che stanno in quarantena in questo momento sparsi per l'Italia perché ci sono quelli che cercano e si devono fare la quarantena fuori da casa 15 giorni. Allora, chi comanda qua? Questi benedetti vaccini, quanti si li devono fare? Ma dalla Cassa Marittima cosa vi dicono? Dicono, guarda, noi abbiamo fatto una letta aspettiamo a stare, ma sta a letta di Babbo Natale quando deve arrivare? Uno per rispondere a un'email al Ministro Speranza. Dove stanno? Abbiamo contattato pure i politici. Ma, un'altra domanda faccia. La dottoressa Loretana, raga, ha pigliato 24.000 voti e ha fatto tutto quanto questa campagna elettorale. Ma potete spendere un'emozione su questa cosa perché vede che se la Regione si avvicina a Delucco e dice, Delucco, ti sei dimenticato? Vacciniamo pure i marittimi. Questa difficoltà nel non potersi vaccinare diventa ancora più grave per chi come lei ha già delle patologie ed è un soggetto a rischio. A rischio, sì. Sono andato a bottarsi e ha detto no, non ci appartiene a noi. Ho messo la scheda per mettere sulla piattaforma. No, non mi risponde. In Cassa Marittima ha detto no, poi non si può fare niente. Io dovevo andare per fare questo vaccino. Quindi siete proprio bloccati in questo momento. Siamo fantasmi. Poi anche altri colleghi miei che vanno a bordo delle navi e dicono che siamo mesi passeggeri ma come mai noi il vaccino non abbiamo? Questo è il problema. Anche per lei il vaccino è necessario? Sì. C'è un problema a casa con mia moglie che ha un problema che non sta bene di salute e non posso stare. Poi devo andare a lavorare ma non posso andare a lavorare perché mi hanno rifiutato il codice fiscale. Mi dice che non mi posso inserire nella piattaforma perché sono un marittimo e di una particolare ti vieni a vecchia. Adesso non so come comportarmi perché devo andare a lavorare e non so come fare. Aiutatemi perché devo andare a lavorare. I marittimi chiedono chiarezza e che si risolva questa situazione. Ma spero che si risolva il più presto possibile altrimenti facciamo una brutta fine. Il suo problema qual è? Il mio problema è che ho un figlio tetrapegico e quindi so che c'è una legge dove tutela i disabili che dovrebbero essere giustamente vaccinati con i familiari. Ho fatto una ricerca per farmi la vaccinazione e la risposta è sempre questa. Quindi voi avete provato ad accedere attraverso la piattaforma regionale ma il sistema non vi fa proseguire. Esatto, sì. Precisamente. Quindi lei oggi, un suo appello a chi lo vuole rivolgere? Tutte le autorità competenti perché in questo caso io non so nemmeno io cosa fare. Una problematica che prescinde dalla fascia d'età. Io sono un 9-60. Sono 20 giorni che è stata aperta l'iscrizione per i marittimi e sono 20 giorni, 3, 4, 8 giorni ho fatto vari tentativi di accesso. Nulla da fare. Perché? Perché sono un marittimo in turno particolare. Automaticamente sono una persona invisibile. Io non ci sto. Non esiste. Io pago le tasse. Insomma, su a bordo, in contatto con i passeggeri. Io non devo essere vaccinato. Resta di fatto l'ennesima situazione vergognosa con cui la vostra categoria deve fare i conti. Esatto. Come questo ormai è un modus operandi di tutti e tutti il marittimo. Non esiste una categoria che non abbiamo mai dato, diciamo, non ci siamo. fisicamente non esistiamo. Fisicamente non esistiamo. Qualsiasi cosa, il marittimo è stato sempre fuori da tutto e da tutti. E questo è l'ennesimo esempio di questa vergognosa situazione. Proprio in un periodo pandemico così pericoloso per tutti, il marittimo non deve essere vaccinato. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro, nel corso di distinti e contestuali accessi ispettivi operati su tutta l'area metropolitana, 143.000 articoli sanitari contraffatti e non sicuri, tra mascherine, visiere, guanti, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, quali l'importatore, il produttore e la descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. In particolare nel capoluoco sono state sequestrate in due empori cinesi della zona industriale oltre 100.000 tra mascherine chirurgiche, visiere, termometri e saturimetri non a norma, privi di marchio o con falso marchio di conformità CE. In provincia, tra San Giorgio a Cremano e Dercolano, sequestrate oltre 16.700 tra mascherine e guanti lattice, privi di informazioni in lingua italiana, in negozi di casalinghi gestiti da cittadini cinesi e presso un disegnatore grafico. A Marigliano, Acerra, Torre del Greco e Forio, sequestrate oltre 5.600 mascherine pseudoprotettive, prive delle indicazioni obbligatorie e con falso marchio CE, presso quattro negozi di articoli per la casa. Anche tra Castellammare di Stabia, Pompei, Giuliano in Campagna e Villa Ricca, sequestrate in quattro negozi gestiti da cittadini di origine cinese, 12.200 tra mascherine monouso e visiere con indicazioni esclusivamente in lingua cinese e con falso marchio CE. Denunciati nel complesso all'autorità giudiziale per ricettazione e commercio di prodotti falsi sette soggetti, sia italiani che stranieri, e segnalati altri sette alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. L'operazione rientra nel quadro dell'intensificazione dell'attività di prevenzione e repressione della contraffazione, uno dei fenomeni su cui maggiormente si concentrano le speculazioni legate all'emergenza Covid-19, programmata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, a tutela dei cittadini in concomitanza con il recente passaggio della campagna in zona gialla. Tonfo della Turris in casa della Cavese nel recupero della partita non disputata a causa dei contagi in casa Corallina, un 3-0 senza appello che spegne sul nascere le speranze di play-off della squadra di Caneo, dopo che con lo stesso risultato nel turno precedente contro il Bari si era raggiunta la salvezza matematica. Parte bene la Turris allo stadio Lamberti con una buona occasione per Boisuk, sventata da Russo in angolo, ma sono i padroni di casa a passare in vantaggio al ventesimo, punizione laterale di Pompetti, il pallone taglia tutta l'aria e si infila alle spalle di Barone per l'1-0 della Cavese. Pochi minuti dopo, cross di Senesi che trova ben piazzato Gerardi in area di rigore, tocco facile, R2-0. Ci prova Alma da fuori, ma il portiere avversario sventa il pericolo. Nella ripresa, reazione della Turris ancora con Alma in Romano, ma la Cavese regge l'assalto. A metà ripresa l'incontropiede i metelliani trovano il Tris con Bubas che con una bella azione personale trova l'angolo basso e chiude definitivamente i conti. Succede poco altro fino al triplice Fischio che sancisce la sconfitta per la squadra Corallina e la chiusura in pratica della stagione prima dell'ultimo impegno di campionato in trasferta contro la Vibonese. Gli ultimi 90 minuti serviranno a tecnico e società per valutare chi potrà ancora far parte del progetto Turris dopo il primo anno tra i professionisti in vista della sezione estiva del mercato con l'augurio che nella prossima stagione ci potrà essere anche la spinta dei tifosi allo stadio. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it chiamando al numero 340 6561 484 Con questo è veramente tutto arrivederci a domani con una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale. Grazie a tutti.